Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, coda a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, sul versante Emiliano, 8 km di coda per un mezzo pesante in fiamme ora estinto tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Verso Roma, un km di coda per un veicolo fermo al km 297-600 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Sempre in A1 per lavori, chiuso lo svincolo di Roncobilaccio in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIPILI in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Sempre in FIPILI per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale. Nella notte di mercoledì 12 luglio sarà chiusa la carreggiata tra Ginestra Fiorentina e Monterupo Fiorentino in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!